L'ipotesi delittuosa è quella di associazione di delinquere per l'appunto finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti. La nostra finalità è quella di individuare se organizzazioni criminali di stampo mafioso più strutturate siano anche radicate nel Vicentino. Si è aperto così un nuovo procedimento penale incardinato presso la direzione distrettuale antimafia di Venezia. Ma procediamo con ordine. Tutto parte dal sequestro del marzo dell'anno scorso di due chilogrammi di cocaina in due panetti purissima, con un principio attivo altissimo, valore stimato a mezzo milione di euro. Droga trovata nascosta in una laminatrice partita dal Peru, arrivata in Croazia e da qui risalita, fino ad arrivare in un'azienda di schio dove doveva essere parcheggiata. Ma lì, a marzo, ad aspettarli c'erano anche gli agenti della mobile berica con i colleghi di Venezia. In quell'occasione venne arrestato oggi ai domiciliari Luigi Carollo, socio della ditta in Peru, indagato invece un altro uomo che collaborava con Carollo. I mesi passano, ma non inutilmente, perché le cose agli inquirenti non quadrano. La perizia di un tecnico mette in evidenza che la laminatrice è finta, finte le saldature, mentre i rulli dove era nascosto lo stupefacente erano piombati. Tutto questo porta gli agenti della mobile di Vicenza a ritenere che dietro i due soggetti, ora indagati per associazione a delinquere, vi sia ben altro. Ci fa ritenere che probabilmente alla base ci sia un'organizzazione criminale ben più strutturata rispetto ai due soggetti, uno indagato e l'altro arrestato, che possa gestire questo vasto traffico.